Prosegue la collaborazione tra BCC Montepruno e l'Associazione Ragazzi di San Rocco che negli ultimi anni ha consentito la promozione dell'arte teatrale di qualità presso il Teatro Mario Scarpetta Sala Consilina. Una collaborazione che è stata confermata nella mattinata di ieri 14 febbraio presso la sede dell'Istituto di Credito a Sant'Arsenio con la firma dell'accordo da parte del Direttore Generale Michele Albanese e del Presidente dell'Associazione Franco Freda. Un momento che è stata occasione anche per ribadire il legame e l'impegno della BCC Montepruno con il territorio e soprattutto con le associazioni locali sostenendone l'impegno e l'attenzione nel portare avanti progetti di alto spessore culturale capaci di garantire anche una crescita artistica dei ragazzi del territorio. L'impegno della banca, ha affermato il Direttore Generale Michele Albanese, conferma la volontà di dare sostegno alla comunità di riferimento anche attraverso la vicinanza ad associazioni locali come i ragazzi di San Rocco che da sempre si distinguono per serietà, passione e qualità delle iniziative. Queste realtà, ha proseguito il Direttore Generale, vanno incentivate perché arricchiscono la società civile e danno occasioni di crescita e svago nei confronti anche dei più giovani. Siamo soddisfatti di aver costruito questa collaborazione e per i risultati raggiunti, ma sono sicuro che nel tempo riusciremo a fare, grazie all'oro, sempre meglio e di più. Un accordo dunque che prosegue, visti gli interessi comuni di Banca Montepruno e Associazione Ragazzi di San Rocco. Non a caso, già lo scorso anno, grazie all'intesa, è stato possibile, come evidenziato anche da Michele Albanese, instaurare una costruttiva partnership event e come obiettivi la crescita culturale e sociale della comunità e il sostegno ai giovani, vista la forte azione messa in campo dall'Associazione nei confronti dei ragazzi che si affacciano, ad esempio, al mondo del teatro e della comunicazione. Al momento della firma erano presenti anche il sindaco di Sala Consina, Francesco Cavallone, e il responsabile della segreteria della direzione generale, Antonio Mastrandrea, oltre ad una rappresentanza dei ragazzi di Radio Lasagne Verdi. Tra gli intervenuti, a margine della sottoscrizione del protocollo d'intesa, anche i referenti dell'Associazione, Giuseppe Ribiscotti e Carlo Maucioni. Tra i principali progetti culturali promossi, la Rassegna Nazionale di Arti Performative Teatro in Sala, giunta alla 27esima edizione in programma presso il Teatro Scarpetta e che nel corso delle ultime edizioni ha avuto una significativa evoluzione, aprendosi a tutte le discipline artistiche ed espressive e della comunicazione. Dal 18 febbraio e per tre domeniche consecutive, Teatro in Sala ospita il Teatro di Prosa delle compagnie che concorrono al premio assoluto per il miglior spettacolo in rassegna, secondo il qualificato giudizio di un'autorevole giuria di esperti. Uno dei momenti clou della 27esima edizione di Teatro in Sala sarà l'evento del 14 aprile che rientra nella collaborazione tra la Banca Montepruno e l'Associazione Ragazzi di San Rocco, ossia il premio dedicato alla memoria di Enzo Polito.